Al via domenica 10 settembre il campionato di calcio girò in eccellenza che vede in campo 16 squadre siciliane tra cui ben 4 della provincia di Agrigento come il Camarat, il Licata, il Canicattì, il Profavara. Il debutto avverrà domenica prossima e vedrà subito in campo esordire in casa il Licata di mister Angele Galvano contro il Cus Palermo e il Profavara allo stadio Giovanni Brucculeri. La squadra è allenata da Giuseppe Balsamo contro l'atletico Campofranco, quasi un derby. Mentre fuori casa giocheranno il Camarat, ripescato, allenato da Renato Maggio contro il Casteldaccia e Canicattì che dopo 23 anni tornerà a giocare in eccellenza contro la squadra del Caccamo. Le altre squadre che compongono il girone dell'eccellenza sono 16, quelle fuori provincia come l'Alcamo, il Casteldaccia, il Cus Palermo, il Mazzare, il Castelbuono, il Mussomeli, la Dattilo Noir, il Caccamo, la Parmonval di Palermo, il Monreale e l'atletico Campofranco. Il girone di andata inizierà appunto domenica 10 e si concluderà il 17 dicembre 2017 per riprendere poi il girone di ritorno il 7 gennaio per terminare il prossimo 22 aprile. Il primo derby agrigentino tra le due squadre della provincia sarà il prossimo 17 settembre. Lo disputeranno il Canicattì che ospiterà a Carlotta Bordonaro la squadra del Profavara. Il 24 settembre il Licata ospiterà in casa il Camarat, mentre l'8 settembre sarà la volta di Licata che incontrerà il Canicattì. Il prossimo 22 ottobre si incontreranno Licata contro il Profavara, mentre il 3 dicembre il Camarat incontrerà il Canicattì. Al via anche il campionato di promozione domenica 10 settembre con cinque squadre della nostra provincia che parteciperanno alla competizione. E sono l'Atletico Ribella di Vincenzo Montalbano, il Cassettermini ripescato del presidente Salvino Sanvito, il Gattopardo del DS Massimo Amato, la squadra di Palma di Montechiaro, la Libertas di Racalmuto allenata da Lillo Capraro e il Ravanusa di Peppe Giarrana. La prima giornata vedrà l'esordio della Libertas Racalmuto del presidente Diego Marcato a Campobello di Mazzara, il Cassettermini del presidente Salvino Sanvito, in casa ospiterà la nuova Sancis, in trasfetta andranno il Castellammare e la Gattopardo, mentre i già derby tra Ravanusa e Alfredico Ribella. Il campionato di promozione si concluderà il prossimo 22 aprile 2018 e sono 30 le partite che si disputeranno nel corso del girone.